Grazie, è arrivata pure, non era venuta con me e poi sembrava arrivata qua col tassi, che dire, bellino, era un sincero stupore, non me l'aspettavo assolutamente, ero felicissimo, ero orgoglioso, e anche per questo cinema qui, questo nostro filmetto piccolo, è un tipo di cinema un po' indipendente che rischia veramente l'estinzione se si estinguano le sale, è legato molto alla vita delle sale, quindi sono particolarmente contento di aver portato avanti questo tipo di messaggio qua, quindi speriamo per il futuro che si riescano a fare ancora film così piccoli e così intelligenti. Ma dopo tanti anni e dopo tanti premi, cosa porta a commuoversi così tanto come abbiamo visto sul palco? È uno strano conflitto interiore che ho con questo premio, sono stato candidato 12 volte, quindi considerate che l'ho vinto 9 volte e sono tornato a casa incazzatissimo, pensando che è tutto un mondo di corruzione, di corrotti e corruttori, questa sera ho cambiato idea. Grazie